Buona giornata amici da Massimo Foghetti, oggi è mercoledì 11 maggio 2022 e siamo pronti per la lettura dei giornali, una sintesi delle notizie che pubblicano questa mattina i giornali con cronaca locale, il resto è Carlino e il Corriere Adriatico, ma come sempre partiamo sfogliando il Libro dei Santi e vediamo che oggi si festeggia Sant'Ignazio da Laconi, Laconi è una località della Sardegna, un frate Capucino che è nato nel 1701, in convento svolse i servizi più umili, si dedicò in modo particolare al Qua, alla Questa e divenne una delle figure più tipiche del capoluogo sardo, riceveva in dono cibo dalla gente che lo amava e lo stimava, a cui dava in cambio il calore della sua amicizia, era un frate semplice, un frate che però visse in santità e umiltà per quanto riguarda i rapporti con gli altri, le sue spoglie riposano nella chiesa dei Capucini a Cagliari. E vediamo ora le previsioni del tempo, vediamo come il tempo si mantiene bello su tutta la regione, ecco qui la grafica con il sole, bel tempo sulle Marche con il cielo in prevalenza sereno, eccetto qualche variabilità pomeridiana in Appennino, il clima si mantiene molto mite, le temperature oscilleranno dai 14 per quanto riguarda la minima ai 22 gradi, le temperature sono in costante aumento, i venti ispireranno da una direzione debole da sud sulla costa e da sud-ovest nell'entroterra. Apriamo oggi il resto del Carlino per quanto riguarda le notizie di carattere locale sulla pagina di Fano e vediamo che si parla delle bandiere blu perché ieri la FEE ha dato il suo risponso per quanto riguarda il rilievo dei mari, delle coste che sono più salubri, quelli che hanno le acque più trasparenti, ma non solo le acque, tutta un insieme di servizi che rendono una località più accogliente, più bella, più funzionale. Bandiera blu a Fano e a Mondolfo, Lido e Arzilla, le solite cenerentole, purtroppo non tutte le coste fanesi hanno questo contrassegno perché poi specialmente in prossimità della foce dei torrenti, dei corsi d'acqua, la situazione ancora non è migliorata. La vasca di accumulo, anzi distinguiamo perché poi c'è un distingo da mettere in evidenza, voglio dire che la situazione è migliorata ma siccome ancora non si riesce a certificare esattamente appunto questo miglioramento si è evitato di presentare la candidatura perché in caso di bocciatura poi sarebbero passati cinque anni prima di poter ripresentare un'altra proposta. La vasca di accumulo inaugurata l'anno scorso nei pressi della foce dell'Arzilla non ha prodotto i risultati attesi e la candidatura non è stata neanche presentata per quanto riguarda il Lido e l'Arzilla. Lucarelli interviene l'assessore al turismo ma la qualità delle acque non è diversa dalle altre spiagge a Princesato. Quindi anche nei tratti esclusi c'è anche Ponte Sasso che non ha ricevuto purtroppo la bandiera blu, l'acqua non è inquinata, insomma l'acqua è tranquillamente chiara, tranquillamente salubre, però insomma ancora ci sono dei problemi per rientrare nei parametri previsti dalla CE. In questi anni, dice Lucarelli, Fano ha lavorato per mettere in sicurezza diversi tratti di mare, pensiamo a Sassonia con gli scolmatori e a Ponte Sasso dove le acque chiare sono state dirottate verso Rio Crinaccio, mentre in fase di progettazione è un'altra opera per riuscire appunto ad avere la bandiera blu su tutta la costa e per farci che il prossimo anno questo avvenga. Cooperazione, missione compiuta in Sierra Leone dal sindaco Massimo Seri. La delegazione guidata dal primo cittadino sta rientrando, condivisa l'esperienza sul decentramento. Seri ha illustrato appunto ai suoi interlocutori africani un progetto quale partner di cooperazione europea sulle competenze da trasferire al paese africano nella organizzazione dei servizi e nel decentramento. Insomma una rappresentanza a livello europeo e supernazionale, quindi addirittura non solo superfanese. Un altro argomento che il resto del Carlino tratta questa mattina è quello dei digestori. Abbiamo una dichiarazione del consigliere comunale di Noi Giovani e Edoardo Carboni, qui viene assegnato alla lista civica in comune ma ovviamente è un rifuso. La relazione sulle manifestazioni di interesse non c'è, si è lamentato Carboni, la proroga degli incentivi è in forze, almeno si sa dove farlo. Carboni è un consigliere di maggioranza. Tuttavia ha scelto di intervenire sui giornali per denunciare alcune carenze, perché evidentemente la sua voce all'interno della coalizione governativa non ha ottenuto i risultati ottenuti, quindi vuole incentivare, vuole stimolare ancora di più l'alleanza di governo per cercare di ottenere dei risultati. Le risorse statali per la realizzazione di questi impianti scadono entro l'anno, ha appunto messo in evidenza il consigliere comunale. E poi una notizia di cronaca. Li voleva dividere, loro la picchiano. È una steward della security che prestava servizio in un locale. Ebbene due avventori si sono messi a litigare. Lei ha cercato di dividerli e quelli entrambi si sono rivolti contro di lei, l'hanno scagliata, l'hanno spintonata, anzi, e poi l'hanno tirata anche un pugno e l'hanno fratturato il naso. E entrambi sono andati a processo. Ora dovranno essere giudicati dal giudice. La donna ha riportato la frattura del seto nasale chiedendo 10.000 euro di risarcimento. Scrutatori per il referendum, la priorità ai disoccupati e il 50% dei componenti, ha deciso l'amministrazione comunale, sarà scelto tra chi non ha lavoro. Mi sembra un provvedimento molto opportuno e molto giusto. Ecco come candidarsi. In questo articolo appunto vengono rilasciate notizie, istruzioni per l'uso per quanto riguarda la candidatura per assolvere a questo compito che porterà nelle tasche di chi avrà questo incarico qualche soldino. E poi passiamo a Mondolfo. Passiamo a Mondolfo perché una bella collaborazione della squadra di calcio giovanile della località con l'Atalanta sta portando a ottimi risultati. Estate nero-azzurra con il Camp dell'Atalanta, un'iniziativa organizzata dalla squadra blasonata. A giugno la società giovanile di calcio Academy Marotta Mondolfo porta all'impianto fermi i migliori istruttori della società bergamasca. Una bella opportunità per i ragazzi appunto mondolfesi per apprendere ancora più nozioni per lo sport del calcio, che è una tecnica da studiare ovviamente, non solo da praticare con passione. E' quindi una bella iniziativa per crescere, per crescere poi per vedere come le grandi società si organizzano al loro interno. Conto alla rovescia per il biodigestore di barchi. Ebbene, mentre Fano ancora latita e aspetta di vedere che cosa deciderà la società a cui dato l'incarico per la localizzazione di questo impianto, ebbene Barti accelera i tempi. Ed è il progetto quello presentato da Feronia. C'è stata una seduta che ha esaminato questo problema. Una seduta che dovrebbe poi sfociare in una conferenza di servizi fissata per il 24 maggio prossimo, che dovrebbe essere il momento decisivo per appunto partire con questo progetto. E sarebbe il primo che parte rispetto a quello che ha intenzione di realizzare Marche Multiservizi e quello che ha intenzione di realizzare l'aset e non si sa ancora dove. Passiamo ad Urbino. Il Consiglio dice sì alla permuta sul Petriccio. C'è stato un voto espresso alla unanimità. Ma torna però alla polemica sul progetto ignorato dal Comune, fatto da Renzo Piano nel 1988. In questo caso parla l'ex Assessore. Ebbene, ieri sera il Consiglio Comunale di Urbino ha approvato all'unanimità la delibera contenente l'accordo tra Comune e Università per la permuta, in favore appunto dell'Ateneo, della parte del Pietriccio appartenente all'ente in cambio di alcuni terreni. Alla Carlo Bo va anche un'area adiacente di 6.300 metri quadrati in cui realizzare parcheggi funzionali alle prossime strutture. Insomma, un servizio importante perché poi i parcheggi, insomma, sono senz'altro funzionali alle strutture di carattere pubblico. E poi vediamo ancora qualche notizia dall'entroterra. Il ticket per accogliere i funghi, un'idea ridicola è la risposta che alcuni raccoglietori e alcuni ricercatori hanno espresso nei confronti appunto della proposta di Rossi di istituire un piccolo ticket che però nella massa fa volume, fa sostanza a favore dei comuni che hanno questi territori dove ci sono, dove crescono i funghi, proteste del mondo dei ricercatori per le modalità di pagamento scomodissima. Bisogna pagare in un bar che si trova aperto alle prime ore del mattino, insomma, prima che si inizi la ricerca dei funghi e trovare un bar aperto a quell'ora non è facile. In un bar all'alba prima di iniziare i giri per i boschi non è una questione di soldi, dicono i ricercatori, basterebbe aumentare la quota annuale, se si vuole intascare qualcosa di più il problema sarà trovare i bar aperti per pagare. A Guzzi, dalla Regione, soldi contro i rischi idrogeologici. Tra i 7 milioni di euro stanziati dalla Regione Marche, per 5 importanti interventi di messa in sicurezza del territorio del rischio idrogeologico, alcuni riguardano proprio Urbino. Il prevedimento è stato approvato dalla Giunta ieri pomeriggio su proposta dell'assessore a Guzzi. E poi siamo a Sant'Angelo in Vado, dove il bocciodromo diventa un centro polivalente. Taglio del nastro a Sant'Angelo in Vado, qui vediamo il sindaco Stefano Parri, che sta appunto tagliando il nastro, per la rinnovata struttura. Ora anche pronta ad accogliere congressi e concerti. Quindi non solo un bocciodromo, come era prima, ma una struttura polivalente per molte necessità e quindi anche una struttura utile per il turismo in questa località bellissima dell'entroterra. Cagli, assegnate le civiche benemerenze in occasione della festa del patrono Geronzio, il santo ucciso nel 1501 alle porte della città di Cagli. Non si sa se da alcuni scismatici oppure da alcuni briganti. Fatto sta che, insomma, ieri questa festa è stata celebrata con grande partecipazione da parte di tutti i cittadini. E poi passiamo alla pagina pesarese del resto del Carlino, dove vediamo che cresce l'entusiasmo per il sostegno alla squadra della VL, la squadra di basket del capoluogo. Ripartono i pullman dei fanesi, pioggia di richieste per Bologna. Pesaro si riaccende in vista dei play-off e scatta la mobilitazione in vista della prima sfida con la Virtus. Siamo stati inondati di messaggi di telefonate tra i bus organizzati, un quarto disponibile. Insomma, si riaccende la passione nei cuori dei tifosi biancorossi dopo le prestazioni che hanno riportato la Victoria Libertas Pesaro ai play-off. Un risultato che cambia la storia dopo dieci anni di sofferenze. Insomma, finalmente ci si muove con il ritmo giusto. E poi Tecnocasa vada in piazza o al Benelli, il comune sfratta la convention dal Palace. È stato fallito, purtroppo, il tentativo di far convivere il raduno e la partita d'Aspes. Priorità alla VL e offre sedi alternative all'azienda. Ore di trattative ieri, ma alla fine il risultato non si è visto. Non ci sono margini per far convivere l'incontro di basket in calendario la sera del 19 tra la Carpegna Prosciutto e la Segafredo Bologna e la convention di Tecnocasa. Insomma, purtroppo le due cose non sono conciliabili e si deve cercare un altro posto. Insomma, un articolo che riguarda e approfondisce questa notizia. La bandiera blu non tradisce Pesaro, resta però l'incognita di Baia Flaminia. È stato confermato il vessillo anche per quanto riguarda le coste del capoluogo, ma si aspetta il verdetto sul tratto di mare a lungo bocciato. Gabice Mare, invece, festeggia per la ventinovesima volta, premiati dalla FE i nostri progetti, hanno dichiarato gli amministratori appunto della località. Sul ponte sventola bandiera blu. Non la bandiera bianca, la bandiera blu. Sarà così a Pesaro, a Fano e per la diciottesima volta a Gabice Mare e per ben la ventinovesima volta a Mondolfo. Se la città della fortuna fa sapere di avere conquistato ben 21 premi, Pesaro resta nell'incertezza di conoscere nello specifico quali spiagge hanno superato gli standard ambientali di accessibilità e fruizione, stabiliti dalla FE, la Foundation for Environmental Education. Insomma, ci sono alcuni tratti di spiaggia che ancora non riescono a rientrare nei parametri richiesti appunto dalla FE, che è un'organizzazione internazionale appunto che tutela l'assetto ambientale delle coste e soprattutto il rapporto tra costa e mare. Insomma, acque pulite, ma anche costa dove ci sono dei servizi veramente efficienti. Stop alle antenne e si costituisce un altro comitato a Pesaro, dopo quello di Soria. Oggi è la volta di Montegranaro, Muralia. A Palazzo Montano Antaldi un convegno sulla tecnologia dei 5G. Una tecnologia che spesso viene contestata da coloro che si vedono erigere le antenne nei pressi delle proprie abitazioni, ma è una tecnologia efficiente per quanto riguarda la funzionalità appunto dei telefonini. Alla presidenza del gruppo Giancarlo Minerva, il vice Renato Zampetti. Comunque ieri mattina c'è stato l'atto costitutivo del comitato di Montegranaro-Muraglia ed è stato firmato nello studio Terenzi. Alla presidenza del gruppo è andato Giancarlo Minerva, vicepresidente Renato Zampetti, mentre i tre consiglieri sono Franco Stramazzotti, Roberto Cacinu e Paolo Gattini. Questo appunto è l'assetto del nuovo comitato. Vendita illecita di integratori pesaresi nei guai. La Guardia di Finanza ha smantellato un sistema piramidale basato sul reclutamento di clienti promoter, ovvero io sono clienti ma per pagare devo trovare altri clienti. Insomma una catena di Sant'Antonio che estendeva sempre di più la vendita di questi integratori e poi tutto questo in evasione del fisco. Quindi ci sono anche due pesaresi tra i tredici indagati della Guardia di Finanza di Rimini che ha smantellato un sistema illegale di vendita piramidale di integratori. Due pesaresi nei guai. Ed ora passiamo invece al Corriere Adriatico. Vediamo la pagina di Fano. La apriamo per quanto riguarda appunto la città della Fortuna e vediamo che si parla di Carnevalesca perché la Presidente dell'ente Carnevalesca ha inviato una lettera ai soci parlando della situazione attuale, quella prossima, del Carnevale di Fano. Si sa che quest'anno ci sono le elezioni, il Carnevale ancora una volta viene organizzato compatibilmente con la situazione della pandemia le cui norme si sono allentate però il virus ancora persiste quindi bisogna usare tutte le precauzioni possibili ed immaginabili per non estendere appunto i contagi e vediamo che nel evidenziare le ragioni per cui ancora una volta il Carnevale viene organizzato in questo modo la Presidente dell'ente evidenzia anche qual è la situazione di una Presidente, di un Presidente nei pressi in riferimento alle prossime elezioni del Consiglio di Amministrazione che si verificheranno dopo l'estate, ovvero nel mese di settembre dopo che in agosto sarà stato organizzato l'ultimo, il terzo dei tre momenti che costituiscono le fasi del Carnevale di quest'anno la prima è stata quella della settimana grassa a febbraio la seconda sarà il 4 e 5 giugno un'iniziativa dedicata in modo particolare ai bambini e alle loro famiglie e poi quella di Ferragosto dove ci sarà appunto il corso mascherato nei viali della Sassonia ma veniamo al punto che ha evidenziato Maria Flora Gian Marioli la quale ha messo in evidenza come incompatibile, ormai non è più sostenibile il ruolo di un Presidente a puro titolo di volontariato che deve allo stesso tempo garantire con i suoi beni personali i prelevamenti che a nome della carnevalesca si fanno nelle banche insomma non è più sostenibile perché poi le spese del Carnevale sono cresciute a dismisura e quindi un patrimonio di una persona che ha il suo lavoro insomma non è certo un onassis diciamo così insomma non è giusto che garantisca e si metta a rischio la propria abitazione per il Carnevale di Fano e per quanto riguarda le sue scelte personali Maria Flora Gian Marioli dice se le cose rimangono come sono non mi ricandiderò e considero ingiusto che una persona che si assume un compito così importante venga anche imposto di offrire la propria garanzia personale agli impegni economici della manifestazione mettendo in gioco il futuro della propria famiglia se invece interverranno segnali di cambiamento per la posizione di responsabilità del Presidente potrei affrontare un altro mandato insomma se le condizioni cambiano sì altrimenti no e subentrerà qualcun altro skate park e pista ciclabile fruibili anche la sera sono due interventi che ha comunicato ieri l'assessore al decoro urbano Barbara Brunori luce e illuminazione nella pista ciclabile Fano Fenile e luce e illuminazione anche nello skate park di Sant'Orso due bei interventi per prolungare l'utilizzo di queste due infrastrutture e poi ha parlato anche, abbiamo riferito anche nel Tg Occhio alla Notizia di ieri sera ha parlato anche della ripresa dei lavori a Radarsena Borghese dove sarà contattata un'altra ditta per completare i lavori che sono stati sospesi dalla ditta che aveva vinto l'appalto il cui Presidente è deceduto nel corso di un incidente stradale l'ambiente è tutelato a parole in pratica una serie di guasti è l'associazione Lupus in Fabula che elenca una serie di disastri ambientali così possiamo definirli insomma di non compatibilità con le dichiarazioni della Giunta e invece gli atti che definiscono gli interventi sul territorio vengono evidenziati la pista ciclabile dell'Arzilla con i guasti nella scarpata del torrente l'eliminazione di piante di alto fusto in piazza Andrea Costa, in piazza Marcolini e poi il consumo di suolo la distruzione del paesaggio agricolo la cementificazione per decine di etteri che caratterizzano il progetto della variante di Gimarra e delle casello autostradali di Finile e poi ancora la complanare sud il nuovo palazzetto dello Sport a Chiaruccia e beh insomma lo spostamento della ferrovia insomma ci sono diversi interventi che ovviamente se devono cambiare le cose consumano suolo il che desta le rimostranze della Lupus in Fabula e poi si parla di Melampo oggi sul Corriere Adriatico una diciamo così proficua una interessante, una bella associazione che si dedica alla cura dei cani randangi il Comune eroga 166 mila euro all'anno per la gestione delle canile di Tre Ponti intanto aumentano le adozioni dirette insomma a Fano vivono moltissimi cani e molti vivono anche nel canile a cui si dedicano i volontari del Melapo e poi abbiamo una mozione che viene presentata dalla lista Azione più Europa una mozione che dà ragione e dà sostegno anche alle richieste di Annibeli e Montanari per quanto riguarda la Colle Marto anche questa una organizzazione un evento cresciuto molto molto in fretta è diventata un'iniziativa a carattere nazionale che ovviamente non può più reggersi a livello di volontariato e ha bisogno di più sostegno festa dei popoli per l'integrazione a Metauriglia il Circolo Albatros lancia appello per la scuola tra un anno nuovi iscritti pronostica e quindi anche la scuola Metauriglia dovrebbe permanere in loco senza portare i ragazzi in altra sede sulla Val Metauro si parla invece della riapertura della strada del Furlo che dovrebbe essere resa agibile entro la fine di giugno l'assessore Aguzzi invita i consiglieri regionali a risolvere e non a creare i problemi i lavori saranno terminati a giugno vale a dire non appena sarà terminata la rete dei sensori per garantire piena sicurezza appunto era una minaccia di frana che impediva appunto la transitabilità di questa bella arteria in un contesto in un contesto ambientale di sicura bellezza insomma e poi è anche vitale per quanto riguarda l'attività delle imprese economiche che insistono su questa località a Monteporto a Monteporzio gli studenti della scuola hanno realizzato dei lenzuoli contro la mafia per ricordare Falcone e Borsellino i lavori degli allunni di Monteporzio e Mondolfo da esporre sulle case di Palermo e saranno inviati proprio anzi sono già partiti i lenzuoli che saranno affessi ai balconi delle case nel centro storico di Palermo in occasione del trentesimo anniversario delle strage in cui vennero uccisi i due giudici e per quanto riguarda le pagine regionali ecco vi voglio segnalare questo articolo perché l'assessore regionale alla sanità Filippo Salta Martini ha parlato di mobilità passiva e ha parlato anche di cambiamento dell'assetto generale della sanità marchigiana l'assessore Salta Martini con il Dipartimento Salute e l'ARS sta mettendo mano alla legge 13 e dal piano socio-sanitario per il riassetto del servizio entro fine anno le nuove nomine addio all'ASUR addio a questa azienda che ha governato il territorio per quanto riguarda la sanità da molti anni mobilità passiva e nuovi direttori i nodi della sanità e nella bozza si parla di un fulcro organizzativo affidato a cinque aziende quindi non più all'ASUR l'obiettivo è seguire i cittadini in tutto il percorso della vita l'intelligenza artificiale ci salverà lo ha dichiarato il super dirigente regionale Gozzini basta improvvisazione la strada è quella giusta e poi ovviamente si parla anche a livello regionale della concessione delle bandiere blu in tutte le marche ne sono state concesse 17 e siamo nella top 5 ovvero nei primi 5 a livello nazionale con questa bella notizia chiudiamo la nostra rassegna stampa Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento come al solito a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle 20.30 con occhio alla notizia su Fano TV questo è tutto grazie per l'ascolto a risentirci che c'è